Costruzioni dell'E42 a Roma trasformate in un benefico villaggio, il sottosegretario Andreotti consegna le chiavi delle case, altre ne consegna la signora De Gasperi e altre l'ambasciatore Dan. Dalle lacrime, dall'ammestizia dei volti è indovenante la provenienza di questi profughi, sono Giuliani. Sia pace sotto i vostri tetti fratelli, la musica dei vostri dialetti ritrova parole di speranza. Possa essere questo l'ultimo tragitto delle masserizie per cui il trasloco è divenuto dolente Odissea. Aver quattro mura per vivere e sono mura dignitose torna realtà per questa gente. Stasera dopo un anno dormiranno tra i loro lenzuoli, ceneranno alla loro tavola tra i caldi odori dei cibi Giuliani ritrovati in questa nuova cucina.